Minaccia, rapina e lesioni personale, questa è l'ipotesi di reato per le quali due sorelle di San Nicola di Centola di 27 e 22 anni sono state condannate a due anni e otto mesi di reclusione. Le due giovani sono finite in manette lo scorso ottobre dopo la denuncia ai carabinieri della Compagnia di Sapri da parte di una quarantenne del Golfo di Policastro, difesa dall'avvocato Franco Valdonato. I fatti risalgono ai giorni tra agosto e settembre quando le due giovani hanno rinchiuso l'amante del padre in un appartamento di Vibonati preso in affetto per l'occasione. Una volta dentro li hanno tolto con la forza il telefonino e l'hanno picchiata violentemente afferrandola per la gola fino a farle mancare il respiro. Non contente li hanno puntato le forbici alla gola e morsa su più parti del corpo, poi calci e infine dopo minacce di morte e strattonamenti li hanno tagliato ciocche di capelli con le forbici. Dopo la denuncia e le indagini dalle quali sarebbe emerso un pestaggio brutale costato alla donna settimane di prognosi, il 30 ottobre i carabinieri hanno arrestato le due giovani su ordine del GIP del Tribunale di Lago Negro. Mercoledì di fronte al giudice per le audienze preliminari del Tribunale di Lago Negro, Matteo Claudio Zarrella, le due sorelle sono state condannate a due anni e otto mesi di reclusione, ciascuna per minaccia, rapina e lesione personale più le spese processuali. Non è però l'epilogo della vicenda, resta infatti appeso il capo di imputazione più grave e distorsione. Il PM Francesco Greconi aveva chiesto l'archiviazione, ma illegale della donna, l'avvocato Maldonato, è insorto con un atto di opposizione per il quale ora il GIP sta fissando la Camera di Consiglio. Una vicenda delicatissima, destinata ad avere probabilmente un altro epilogo giudiziario che passa ora nelle mani del GIP. La richiesta di archiviazione ingiusta e infondata, si legge, la libertà fisica e la condizione primaria per l'esercizio di tutte le altre libertà riconosciute alla persona dall'ordinamento giuridico. Il giudice ha poi accolto la richiesta della difesa delle due donne, che sono difese dall'avvocato Paolo Carbone, e ha rievocato la misura degli arresti domiciliari nei loro confronti, disponendone la liberazione. Grazie a tutti.